Musica Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali dedicate alle elezioni politiche 2022 del prossimo 25 settembre. Preliminarmente vi ricordo che votare, anche se appare così complesso quando si parla di plurinominali, uninominali, di sistemi elettorali molto, a volte anche astrusi nella loro spiegazione, invece votare è semplicissimo, basta mettere la croce sul simbolo prescelto e il voto varrà alla Camera o al Senato di cui ci occuperemo in questa tribuna elettorale direttamente alla lista, nonostante ci siano i nomi già scritti, però la lista già contiene l'ordine di elegibilità dei singoli candidati. Oggi abbiamo, come nei giorni precedenti, due candidati che esporranno le proposte elettorali, sono in studio per il Senato, collegio proporzionale Abruzzo, i candidati in studio abbiamo Massimo Pietrangeli di Italexit, buonasera. Buonasera. E abbiamo collegata su Zoom, perché è fuori regione, Claudia Roselli, campolista di Unione Popolare, buonasera anche a lei. Buonasera, non sono fuori regione ma purtroppo un impegno articolativo non mi avrebbe permesso di raggiungervi, quindi vi ringrazio anche per questa possibilità che mi state dando. Benissimo, allora io spero che il collegamento vada bene, soprattutto dal punto di vista tecnico, mi pare di sì, quindi possiamo iniziare a parlare di questa sfida al Senato. Innanzitutto presentando per i telespettatori che non li conoscessero i soggetti elettorali che si propongono, iniziamo da Italexit con Pietrangeli, la prima prova del soggetto nato per l'iniziativa di Paragone, e che in Abruzzo ha raggiunto il numero di firme necessarie per poter competere. Innanzitutto, quali sono le principali aspettative da parte vostra in questa sfida elettorale, visto che si tratta appunto della prima volta? Sì, grazie. Le aspettative non possono essere che positive, le aspettative però si avvicinano a una quasi certezza che riusciremo a superare la quota di sbarramento che è al 3% e chissà che non venga fuori anche qualche sorpresa che ci faccia sorridere ancora di più poi a fine competizione elettorale. Noi siamo ovviamente, parlo di tutti i livelli, nazionale, regionale, degli outsider, riguardo ai giganti della politica, termine abbastanza improprio. Mi riferisco solo al numero dei loro votanti, però l'outsider spesso può anche essere vincente. Noi pensiamo di esserlo non tanto e non solo per la proposta di candidati che hanno le loro brave competenze, ma anche perché abbiamo un programma di tutto rispetto, del quale poi magari potremmo fare pure qualche cenno. Benissimo. Allora, Claudia Roselli, Unione Popolare, un soggetto elettorale che però si riempie anche di contenuti politici, di forze politiche che già sono attive sul territorio nazionale da diverso tempo, insomma anime varie di un mondo della sinistra che si cerca di unificare in questa esperienza. Anche voi avete dovuto raccogliere le firme, però insomma diciamo che il programma attorno anche alla leadership di De Magistris è stabilito anche da prima che si arrivasse a questa escalation verso le elezioni, mi pare di ricordare. Sì, io infatti colgo l'occasione anche per ringraziare tutto il movimento, tutte le persone, direi nella mia regione, ma in tutto il territorio nazionale che si sono spese in tutto il mese di agosto per sostenerci, dandoci una mano nella raccolta delle firme, è stato come dire un primo momento d'incontro assolutamente fondamentale per farci conoscere, ci siamo anche resi conto che il nostro movimento raccoglieva molte simpatie e questo è stato per noi un primo passo fondamentale. Come lei ha detto, Unione Popolare raccoglie delle realtà che già operano nel territorio nazionale, c'è Potere al Popolo, che è il movimento nel quale io già militavo, Rifondazione Comunista, Dema e Manifesta. Bene, allora presentati i soggetti andiamo sui temi perché le ultime ore ci parlano anche di una campagna elettorale che si sta sviluppando in un contesto di preoccupazioni sempre crescenti. C'è il tema del gas, il tema della Russia, su questo voglio subito entrare nel cuore anche delle vostre posizioni che so non essere particolarmente allineate con quelle delle principali forze politiche. Iniziamo con Massimo Pietrangeli per parlare di questa Italexit che già dal nome induce a prospettare una rottura con le strategie generali che anche l'Europa in queste ore sta mettendo a punto per fronteggiare la crisi energetica. Iniziamo da questo. Per quanto riguarda la possibilità di uscire dall'Europa è il primo dei nostri obiettivi. Non è una decisione cervellotica, è una decisione che si poggia sulle teorie e anche sui dati certi, anzi di diversi economisti di quelli veri, non di quelli che oltretutto non ne azzeccano mai una in nessuna delle previsioni a breve o a lungo termine. La possibilità di uscire dall'Euro e dall'Europa per noi è qualcosa di vitale. Questa non è l'Europa dei popoli, delle comunità europee, delle nazioni alleate, ma è l'Europa creata per distruggere soprattutto l'Italia che quando eravamo ancora negli ultimi anni della Lira era la quarta e quinta potenza mondiale e grazie all'introduzione dell'Euro, favorita soprattutto dal buon Professor Prodi, è diventata il fanalino di coda di un'Europa che oltretutto non è l'Europa, ripeto, della democrazia, della solidarietà, della pace, ma è anzi a proposito di pace, qualcosina pure ci sarà da dire. Dicevo, non è una cosa secondaria ma prioritaria, perché questo sistema monetario, questa gestione fatta dalla BCE e dai suoi burocrati, dalle banche centrali, ha distrutto, e lo vediamo, non stiamo mica esagerando, ha distrutto letteralmente il tessuto economico di questo Paese, produttivo di questo Paese, ma di conseguenza ovviamente anche il tessuto sociale, perché fasce enormi, percentuali enormi di popolazione sta entrando nella povertà assoluta, o comunque in una povertà relativa a tanti altri milioni, grazie a politiche che non sono, attenzione, sì sbagliate, ma non sono il frutto di unicamente incapacità o di disonestà, ma sono state delle misure, sono tuttora delle misure studiate a tavolino, scientificamente studiate e rigidamente applicate dai servitori dello Stato che non hanno fatto assolutamente mai il proprio dovere. Tradire la propria nazione è un atto gravissimo, il tradimento è sotto gli occhi di tutti, dai tempi del Britannia e chi ha orecchie per intendere, intenda, quindi siamo di fronte a una distruzione programmata del tessuto sociale, economico del Paese e poi ne parleremo possibilmente nel mio prossimo intervento, di una distruzione voluta, determinata del sistema sanitario nazionale, della sanità pubblica in favore ovviamente di quella privata. Siccome ci tengo e amo la sanità pubblica, ci ho lavorato 30 anni, mi piace che si cominci a fare dei discorsi veramente seri in questo Paese. Benissimo, allora Claudia Roselli, Unione Popolare in merito alla collocazione internazionale del nostro Paese e in merito anche alle alleanze in questo caso collegate al tema della guerra che è in corso, anche da parte vostra mi pare che si vada verso un'idea di totale ripensamento. Assolutamente, il nostro programma è uno dei pochi programmi che si definisce pacifista senza se e senza ma, è un programma contro le guerre a favore della giustizia sociale, economica ed ambientale. È un programma che in realtà vuole parlare ai reali bisogni delle persone e che si indegna davanti alle ingiustizie. Ora noi dal 2014 assistiamo ad una guerra del Donbass dove le milizie ucraine hanno fatto da otto anni stragi di civili. Ovviamente eravamo contro quella guerra, adesso lo siamo contro questa assurda guerra che sta causando un allineamento sciocco e anche controproducente per tutta l'Europa con le posizioni atlantiche che stanno causando un massacro economico e che ovviamente poi è una posizione controproducente per noi perché vediamo continuamente un rincaro dei prezzi del gas è una situazione che sta mettendo in ginocchio l'economia della nostra nazione, del nostro paese con un rincaro per le famiglie, per le imprese, per le piccole aziende che comincia ad essere assolutamente insostenibile. Quindi abbiamo nel nostro programma un'idea pacifista e democratica che ci vuole contro il finanziamento delle guerre lo stop all'invio delle armi e per la risoluzione diplomatica di tutti quanti i conflitti. Bene, allora Pietrangeli andiamo un po' più sullo specifico e anche direi sul concreto sulla questione del gas perché insomma tutti dicono va superata la prevalenza dell'approvvigionamento dalle fonti fossili però insomma non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani. Invece che cosa se entrate in Parlamento voi iniziate a proporre a partire dal 26 di settembre nel concreto per affrontare un autunno e soprattutto un inverno che per il paese si profila denso di grandi preoccupazioni, anche si teme di grandi perdite di posti di lavoro, di grandi difficoltà che potrebbero ripercuotersi sull'ambito sociale. Quali ricette immediate per bloccare questa crisi? Sì, grazie della domanda. Beh certo, prima ancora di parlare delle ricette sarebbe anche utile riflettere sul fatto che questo caro bollette, questa carenza energetica è stata creata da un'obbedienza cieca del nostro paese ai diktat dell'America e dell'Europa. perché se non avessimo fatto, non dico gli indifferenti, perché essere indifferenti a una guerra ma nemmeno parlarne, ma se ci fossimo comportati in maniera un po' più critica, e qui concordo perfettamente con le parole di Rosselli, probabilmente non saremmo qui a ragionare di una entrata in guerra ancora più diretta, un impegno ancora più diretto. E quindi è giusto che si dicano queste cose perché l'Italia sta operando esattamente un suicidio dal punto di vista economico e anche sociale su diktat di paesi esteri. Non abbiamo in noi una nostra indipendenza ed è quello per cui maggiormente ci battiamo, un'indipendenza che vada sì sui concetti della moneta emessa non più a debito, ma anche, ripeto, su un'indipendenza reale della nazione Italia, che ormai non si può dire manco da decenni, da secoli siamo stati sempre colonia di qualcuno, ma sarebbe anche ora che veramente decidessimo di fare di meglio. Riguardo alle ricette, quindi avendo compreso un po' meglio le cause, le ricette sarebbe non avere un atteggiamento così ostile e anche di chiusura, perché ricordiamolo abbiamo espulso anche i rappresentanti della Russia, che è stato sempre oltretutto un paese amico, che ci ha sostenuto anche durante i primi mesi della pandemia e li abbiamo anche al tempo giustamente ringraziati. Il rapporto tra la Russia e l'Ucraina adesso non è il caso nemmeno di parlarne, ma la Nato ha spinto a lungo e per anni, in maniera sempre più insistente, per far sì che la Russia avesse una qualche reazione. Ovviamente dei missili piazzati a 45 secondi dall'arrivo a Mosca, dal confino ucraino, non potevano e non possono essere sopportati da una superpotenza che, al contrario dell'altra grande superpotenza, non mi risulta essere una guerra fondaia recidiva e seriale. Allora, Claudia Roselli, qual è invece a suo avviso il primo intervento per aiutare gli italiani, adesso abbiamo parlato di situazioni internazionali, ma aiutiamo gli italiani dal 26 settembre, se Unione Popolare arriva in Parlamento a fronte di questo autunno fatto di bollette e di ristrettezze? Sì, ci pare molto strano e anche molto illogico che per quanto riguarda la distribuzione delle ricchezze ci sia un arricchimento di pochi a discapito poi delle famiglie del ceto medio e delle famiglie che attualmente sono in povertà, per cui ovviamente il nostro programma è quello di un allineamento contro la povertà, l'eliminazione dell'IVA sui prodotti di prima necessità, un riadeguamento della scala mobile, quindi l'adeguamento dei salari al caro vita, riaffinare il reddito di cittadinanza e sicuramente partire da una riforma del lavoro che combatta il precariato e che ha un salario minimo di almeno 10 euro l'ora. Mi sembra un po' illogico, ho parlato con molte persone in questi giorni, ho la netta sensazione che ci sia una sorta di sconforto per cui parlare di 10 euro l'ora o parlare di riqualificazione della sanità, della pubblica amministrazione, del ridare dignità alla scuola, siano considerati dei temi da campagna elettorale come se questa cosa non potesse invece essere portata al dibattito pubblico e alla scelta che le persone possono fare. Quindi per quanto mi riguarda è assolutamente importante puntare sulla sanità e sul dare la possibilità a tutte quante le persone di curarsi in realtà anche nella propria regione, quindi tentando di abolire o di contrastare l'autonomia differenziata e di dare una buona capillarità alla sanità pubblica anche nei piccoli territori. Ora noi abitiamo in Abruzzo in un territorio dove ci sono molte aree interne che sono completamente dimenticate, dove non ci sono servizi pubblici, dove manca il trasporto, dove mancano anche generi di prima necessità, dove non c'è la possibilità di avere una medicina territoriale. Questi sono tutti i punti che sono a noi cari e che puntiamo a rendere possibili con il nostro ingresso in Parlamento. Un nuovo giro di domande e risposte, stavolta invertiamo l'ordine, partiamo proprio da lei Claudia Roselli su un tema che è strettamente legato al primo, cioè lei ha parlato di interventi massicci da parte dello Stato per sostenere tutta una serie di servizi che sono stati dimenticati negli ultimi anni, decenni. Esiste però il tema di come trovare la provvista per permettere allo Stato di aumentare i salari, di rinnovare i contratti e di introdurre anche il salario minimo e altre misure che voi proponete. Ecco, il tema fiscale di cui si parla sempre poco perché in campagna elettorale quando si parla di fisco c'è sempre qualcuno poi che pensa di essere penalizzato, c'è questa proposta della flat tax del centro-destra, voi che tipo di impostazione dareste in una riforma del sistema fiscale nel nostro paese? Allora, sicuramente far pagare più tasse a chi ha più soldi e una tassazione degli extraprofitti, questa è una cosa che ho sentito anche aver, come dire, avete dialogato anche con il mio collega la scorsa settimana Emanuele Mancinelli. Sicuramente i soldi vanno tolti dal riarmo perché un F35 costa 130 milioni di euro, invece parlo per me e penso di poter rappresentare tutti, io lavoro nel sociale perché sono una psicologa, psicoterapeuta e sono anche un insegnante. mi sembra proprio un'aberrazione che ci siano, come dire, delle persone che sono in lista d'attesa anche per le visite di controllo o dei cari amici che purtroppo combattono contro malattie oncologiche importanti, si sono visti dare appuntamento a due mesi di distanza, direi che per una persona giovane è un tempo un po' troppo azzardato, così come ci ritroviamo anche nella scuola, ma come dire, gestirci noi, organizzare banchetti, organizzare bancarelle, mercatini di Natale per avere dei fondi extra, ovviamente che poi il Ministero non ci dà, per garantire una gratuità anche dei piccoli progetti che per esempio organizziamo ma che sono assolutamente fondamentali per i nostri bambini e per le nostre bambine. quindi penso che siamo stati definiti, come dire, i Robin Hood della situazione, volevano prenderci in giro e invece in qualche modo è stata data questa bellissima immagine che assolutamente ci rappresenta. Togliere ai ricchi per dare ai poveri non mi sembra un discorso così tanto lungimirante o così tanto fatiscente. Il tema delle tasse, Pietrangeli, è uno di quelli su cui ha battuto tanto Paragone in questa campagna elettorale e continua a farlo. In molti, ripeto, non ne vogliono tanto parlare perché insomma poi qualunque proposta si faccia va a scontentare questa o quella categoria sociale. Voi avete una riforma in mente da applicare in Parlamento? Sì, allora ovviamente non sono un economista e quindi esprimerò comunque i concetti di fondo che voglio esprimere, ma prima ancora vi dico perché mi devo ricollegare alla bella affermazione della Rosselli, anche io sono di estrazione socialdemocratica, mi piacerebbe tanto una socialdemocrazia liberale che però non ha mai trovato la propria via e nel tempo anzi questo turbocapitalismo, come lo definisce qualcuno, ha finito di rovinare ovviamente anche le possibilità di una vita sociale, politica più tranquilla agli italiani. Detto questo dico anche che il 15 settembre saremo a Roma, da tutta Italia, a Roma proprio contro il caro Bollette e non solo, spiegheremo alla gente che mentre noi dobbiamo pagare il triplo e il quadruplo, l'Eni e l'Enel hanno incassato qualcosa come 7 miliardi di utili solo in questi mesi, grazie a delle speculazioni ovviamente internazionali, ma non dimentichiamo nemmeno che l'Eni e l'Enel sono di proprietà statale, quindi se ci fosse un governo, se ci fosse o se ci sarà, speriamo, un governo meno incline a tartassare gli italiani, dovrà far sì che quei soldi che sono un utile dell'Enel e quindi dello Stato vengano ridati di corsa alle piccole e medie imprese, ai commercianti, a tutte le famiglie che non riescono a pagare ormai più la bolletta perché è tutto un aggiungersi di tasse. Quindi detto questo, e ci possiamo anche un po' collegare anche per parlare della flat tax, noi ci esprimiamo a favore, siamo per un'aliquota al 15% per chi produce made in Italy, non per chi commercia unicamente con prodotti esteri, ma devo fare anche qualche precisazione, alla flat tax si imputa impropriamente il fatto che favorisce i ricchi e penalizza i poveri, ma in realtà anche la flat tax prevede che chi ha un reddito fino a 13 mila Euro annui o addirittura chi non ne ha, non debba assolutamente sostenere nessuna tassazione, al di sopra di quei 13 mila annui, credo che sia ancora quella la cifra 13 o 15, invece si applica comunque la flat tax, quindi non è che si applicano poi tasse diverse. Sicuramente una flat tax potrebbe ridare un rilancio all'economia, perché è chiaro che se le tasse poi le pagano tutti e non solo poche persone in Italia, una quota di evasione è elevata, sicuramente ci saranno più fondi per la sanità, per la scuola e tutto il resto. Chi non paga realmente le tasse in Italia sono i grandi gruppi, compresa la benemerita Fiat che per anni ha regalato soldi all'Italia, agli operai italiani e che poi quando l'aria è cambiata, quando i tempi si sono fatti un po' diversi, ha chiuso del tutto proprio le sue attività nel nostro paese per andarle ad effettuare altrove. Bene, andiamo a parlare di un tema che avete già accennato in parte con le vostre risposte, essendo anche in qualche modo addetti ai lavori. La vostra valutazione su questo insomma, gli elettori sono anche un po' confusi rispetto a messaggi da più forze politiche che si definiscono antisistema, che arrivano appunto in questa campagna elettorale. La vostra valutazione sulla gestione della pandemia e soprattutto il da farsi nelle prossime settimane per la campagna vaccinale per capire anche se ci sarà un ulteriore ritorno dell'emergenza Covid. Iniziamo da Claudia Roselli. Sì, allora, ho la netta sensazione che rispetto alla pandemia, dico anche, come dire, lo dico anche con un po' di sollievo, ci sia un ammorbidimento soprattutto nella scuola. Questo è un qualcosa che mi dà molto conforto perché continuare a pensare ad avere bambine e bambine adolescenti in dad per un ennesimo anno sarebbe assolutamente controproducente. C'è una grandissima sofferenza che si legge nell'infanzia e che si legge anche nell'adolescenza, per cui assolutamente abbiamo messo in atto sia nella sanità che anche nella scuola tutte le misure per il contrasto della pandemia. Abbiamo anche imparato a convivere non solo con il coronavirus, ma anche con tutti i virus che circolano quando si è in tanti. Per cui molte scuole hanno fornito nelle scuole i sanificatori dell'aria, abbiamo imparato a far girare di più l'aria cambiandola quando ci sono molte persone, molti bambini e molte bambine in una stessa stanza. Spero non ci sia di nuovo bisogno di ricorrere alle mascherine anche se abbiamo la totale libertà di sentirci protette qualora ne avessimo bisogno. Invece i bambini quest'anno andranno senza mascherina e questo è un qualcosa di assolutamente importante. Per quanto riguarda poi ovviamente la sanità siamo stati come dire in qualche modo aiutati dalla vaccinazione, comincia ad essere facoltativa per le persone fragili, le persone deboli ed è una cosa che è assolutamente importante. Questo è anche un punto del nostro programma e cioè favorire la sperimentazione, favorire le case farmaceutiche che però devono essere pubbliche e non quindi legate ai profitti dei privati perché abbiamo visto che insomma con le questioni vaccini sì e vaccini no c'è stata tantissima confusione in questo periodo. Se ci fosse stata invece una linea più coerente, più diretta, più sicuramente facilmente comprensibile per la popolazione, tutta questa dicotomia che c'è stata anche tra di noi non ci sarebbe sicuramente stata. Massimo Pietrangeli, Italexit. Allora sulla pandemia non solo personalmente ma diciamo con tanti colleghi e vi assicuro di primo piano anche in ambito universitario ho una visione diversa, assolutamente diversa da quella che è stata la narrazione telepandemica e mediatica. Qui il discorso dovrebbe durare non meno di un'ora e mezza. Vi garantisco solo una cosa che io ho parlato ma veramente con i massimi esperti anche della governance italiana, sanitaria, con epidemiologi universitari e con tanti altri professionisti per cui ripeto ci vorrebbe un approfondimento vero e magari perché no potrebbe anche accadere che Rete8 ci inviti non per la politica ma per una discussione serena, per un dibattito sereno e tranquillo con coloro che sostengono il contrario, che sostengono che dobbiamo fare ancora milioni e milioni di tamponi al giorno per poi individuare uno zero punto di malati perché poi sulla positività di un tampone rispetto alla realizzarsi della malattia ce ne corre. Noi abbiamo vissuto di favole in questi due anni e mezzo, ormai quasi tre, abbiamo vissuto di notizie che sono state sempre e soltanto unilaterali e quindi di pura propaganda. Riguardo all'utilità dei vaccini ci sarebbe, mi dispiace qui non posso non contraddire per il mio parere personale la Roselli, ma abbiamo i dati, abbiamo i numeri del fallimento, non solo del fallimento di questa vaccinazione ma anche della pericolosità perché questo è un grafico poi, chi mi chiama darò il riferimento, il link, questi sono grafici, sono dati che dimostrano come la mortalità infantile e giovanile abbia avuto un picco, si dovrebbe vedere da queste parti, abbia avuto un picco esattamente corrispondente alle vaccinazioni. Sull'utilità e sull'efficacia di questo cosiddetto, e lo sottolineo, vaccino ce n'è da dire assai perché non è stato né efficace e quindi, ma abbiamo i dati, ripeto non stiamo parlando di pareri personali, stiamo parlando di numeri della stessa istituto superiore di sanità e di altri istituti, che però poi si guardano bene dal dire la verità sui dati dei malati, sui dati dei ricoverati in terapia intensiva, eccetera. Quindi, e lo ripeto, non esiste il fatto che si dica che sia efficace e non è affatto sicuro perché la mortalità, non solo infantile ma anche al di sotto ai 50 anni, 60 anni, è aumentata a dismisura, quindi morti, danni vaccinali che nessuno vuole vedere e che il soggetto danneggiato si deve tenere perché lo Stato a quel punto lo abbandona e quindi siamo di fronte a un'emergenza che prevede dei cambiamenti fondamentali e veramente epocali in una sanità che voglia essere degna di questo nome. Allora, noi adesso ci stiamo avviando la fase conclusiva di questa tribuna elettorale, insomma, voi naturalmente ambite ad entrare in Parlamento, a superare la soglia dello sbarramento del 3%, perché ricordiamo non siete nelle due coalizioni principali. Ecco, le due coalizioni principali soprattutto arriveranno nei prossimi giorni gradualmente a fare appelli riguardo al voto utile, in quei collegi uninominali che fanno parte, che sono un po' l'ago della bilancia di questo sistema elettorale in Italia. Ecco, come convincere? Voi siete un po' più a sinistra e un po' più a destra come collocazione che è ovviamente molto grossolana, però come convincere, per esempio, che lo chiedo a Claudia Roselli dell'Unione Popolare, a definire utile un voto alla vostra formazione per poter battere l'avanzata della Meloni, della sua coalizione di destra, rispetto a un voto alla coalizione del Partito Democratico? Allora, sì, assolutamente penso che sia fondamentale questo nuovo linguaggio che noi parliamo, che non è un linguaggio dicotomico, per cui da una parte ci sono i normali e dall'altra parte ci sono, così come ho sentito, insomma dai discorsi della Meloni, gli anoressici piuttosto che gli obesi, piuttosto che i matti, così come c'è un totale divario tra le persone, per cui veniamo classificati e definiti in base al genere, ai generi, in base al colore della nostra pelle o alle nostre religioni. Io l'appello che faccio ovviamente rispetto al voto è dare fiducia ad una coalizione che è pacifista, che è femminista e che è contraria alle guerre e al razzismo, siamo contrarie alle discriminazioni dei generi, puntiamo ad una parità salariale tra uomini e donne, per quanto mi riguarda penso sia un qualcosa di assolutamente utile e fondamentale ribadire il totale sostegno alla legge 194 che in qualche modo garantisce l'autodeterminazione delle donne rispetto ad una scelta di abortire oppure no e un assoluto impegno rispetto alla legge che tutela il fine vita. Noi abbiamo la bellezza di essere delle persone pure, delle persone che sono sempre state dalla stessa parte che non hanno fatto accordi con i precedenti governi e che in qualche modo garantiscono una onestà intellettuale ed una trasparenza all'elettorato. Grazie. Io penso che più o meno lo stesso problema di comunicazione, per questo sono importanti anche questi passaggi televisivi, lo viva Italexit perché molti obiettori e molte obiezioni rispetto al vostro programma sono legate al fatto che così non fate vincere il centrodestra, il voto Italexit è un voto disperso anche se siamo d'accordo con tante cose che voi dite. Quanti elettori le dicono questo? Come risponde soprattutto? Sì, accade. Guardi, io provengo da Fratelli d'Italia nella quale ho militato fino a due mesi fa, tre mesi fa, poi ovviamente non ce l'ho fatta più quando la leader Giorgia Meloni ha iniziato a parlare di una fedeltà assoluta alla Nato, di una necessità di avere questa fedeltà, ha iniziato a dire che l'agenda Draghi va continuata anche perché, come dire, vabbè il discorso sarebbe troppo lungo, non so quanto è forte il potere decisionale dei politici quello intendevo dire, ma allora quando ho iniziato a parlare addirittura di un coinvolgimento diretto, più diretto nella guerra ho salutato tutti molto cordialmente e anzi li saluto ancora gli amici di Fratelli d'Italia, ma me ne sono andato, quindi è chiaro che ho parlato delle mie posizioni personali, ma essendo che anche noi abbiamo nel nostro programma un no netto e deciso e assoluto alla guerra e anche all'invio di armi, attenzione, ovviamente non possiamo far prevalere il fatto che non perde il centrodestra che comunque in questa ondata vincerà alla grande e vincerà perché la sinistra ha voluto lasciargli la patata bollente da gestire adesso che entreremo in una crisi ancora molto più profonda, perché ragazzi io sinceramente quei leader o anche nostrani che vanno in giro con un sorriso a 32 denti quando la situazione è drammatica sinceramente non li sopporto molto, lo dobbiamo dire avremo un ottobre, forse già settembre stesso tra poco, un ottobre comunque novembre, un inverno molto difficile, se continuiamo ad avere queste persone al loro posto non ne veniamo fuori e anzi personalmente, qui esprimo un parere personale e forse non solo, comunque qui vanno azzerati tutti i vertici istituzionali, non solo quindi va buttato giù un governo che non funziona, ma vanno azzerati dei vertici istituzionali che hanno fatto una pessima gestione della pandemia, della sanità in genere, ma anche della scuola, della giustizia, dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli, questo non è più un paese da riformare, lo abbiamo visto, sono 50 anni, 60 anni di riforme e la riforma scolastica ha portato a delle situazioni sempre peggiorative, la stessa cosa uguale, identica per la sanità, quindi questo è un paese da rifondare, noi abbiamo le idee molto chiare, sia per l'economia perché la nazionalizzazione, il ritorno a una sovranità nazionale, quindi monetaria anche, implica dei vantaggi enormi, sia pure con degli scossoni iniziali che sarebbero pesanti da sopportare, ma sicuramente la strada non è quella di essere ancora appesi per il collo dalla BCE e dalle banche private. Allora siamo all'ultimo appello, appello che è rivolto, io penso a una platea che i sondaggi fotografano attorno al 40%, a due settimane e mezzo ormai dal voto, quindi insomma una platea enorme, forse uno su due dei nostri telespettatori che non vuole andare a votare, credo che quando arriveranno le bollette avrebbe la tentazione di mettere la bolletta dentro l'urna invece che la scheda elettorale, invece bisogna ricordare intanto che il voto è un dovere civico del cittadino e che è forse una delle poche armi che ci sono per cambiare, ma dovete essere voi a convincerli agli elettori ormai disamorati da tutto, che sono sia a sinistra che a destra o anche in chi votava forze politiche di centro. Allora chiedo a Claudia Roselli di usare questi due minuti e mezzo per la sua opera di convincimento. Sì, allora mi piace ribadire che la vera sinistra siamo noi, nel senso che il PD così come le altre coalizioni che già governano non possono essere definite di sinistra, per cui dateci fiducia perché siamo la vera forza prorompente, non mettete la testa sotto la terra, sotto la sabbia, dateci fiducia e come dire date la possibilità anche di un nuovo cambiamento, di mettere in discussione le persone tra di loro, di farle dialogare senza utilizzare questi toni così con decibel così alti come stiamo vedendo nell'attuale campagna elettorale. Siamo per i diritti dei popoli, siamo per i diritti civili, contrarie ad ogni forma di imperialismo e siamo quelli che la Costituzione vogliono applicarla, non soltanto difenderla. Grazie a Claudia Roselli che salutiamo, è collegata via Zoom e chiudiamo con Massimo Pietrangeli in studio, ovviamente con un appello rivolto ai tantissimi indecisi. Sì, io parto dicendo che non solo rispetto ma per tanti versi condivido anche l'impulso a non votare, la convinzione di non votare, però ritengo che non sia una buona scelta, ve lo dico sinceramente, perché se è vero che da una parte si possono disinteressare anche se va a votare soltanto il 40% di persone, addirittura il 30%, un governo sarebbe comunque fatto e sarebbe magari un governo tecnico, altro capolavoro della Nazione Italia. Prima di concludere, anche di fare un appello più esteso, vorrei dire, ricordo a tutti che il 15 settembre, tra pochi giorni andremo a Roma in massa a chiedere, a protestare contro il caro Bollette davanti alla sede dell'ENI a Roma e la restituzione alle piccole e medie imprese, agli italiani tutti, delle cifre che devono comunque sborsare per una rifornitura che è diventata più costosa. Approfitto anche per dire che avremmo il piacere anche di incontrare le categorie dei vari confessercenti, confcommerci, eccetera, e magari perché no, soprattutto i rappresentanti dei balneatori, perché come sapete tutti la Bolkenstein, una legge europea splendida, prevede che degli stabilimenti balneari, delle concessioni tirate su con fatica, ma anche con tanto entusiasmo per renderli così accoglienti in tutta la penisola, siano messi all'aste e che quindi possano diventare proprietà dei cinesi come di tutti gli altri che volessero prenderli. Non lo ritengo giusto, non lo riteniamo giusto, pensiamo che vada fatta una battaglia importante anche a quel riguardo. E poi ancora, raccomando, chi vuole che non sia più prorogato la carta nazista del Green Pass e deficienze simili, la vaccinazione obbligatoria, eccetera, eccetera, ci può votare con fiducia perché il nostro impegno sarà anche quello di effettuare una commissione d'inchiesta sulla gestione della Covid, perché questi signori che hanno barato, che hanno continuato a mentire quotidianamente e che quindi sono responsabili di morti e di danni importanti alla salute, devono essere messi sotto processo, serenamente ed equamente, non accenniamo al processo di Norimberga o cose simili, ma vogliamo dei processi equi, vogliamo portare i responsabili anche della distruzione dal punto di vista economico dell'Italia, quei soggetti che hanno lucrato per decenni e ce ne sono tanti e poi invece hanno abbandonato l'Italia nel momento del bisogno. Buon voto a tutti. Grazie Massimo Pietrangeli, grazie ancora a Claudia Roselli collegata via Zoom, ricordo ancora ai nostri telespettatori e a tutti gli elettori che votare è semplice, basta mettere la croce sul simbolo del partito della lista prescelti. Grazie e appuntamento a domani con una nuova tribuna elettorale. Grazie a tutti.